un saluto a tutti da Simone Pistoglio e Firenze volevo fare un piccolo video sono qui a Lagacci a un lago molto bello nel Mugello di Firenze e praticamente senza farmi vedere in quadro lo specchietto non so se si vede c'è una una pattuglia di polizia locale che sta facendo l'autovelox alle macchine che vengano in giù nascosti dietro un cespuglio senza nessun cartello che preceda la macchina come deve essere di normativa quindi a 50 metri dalla macchina ci vuole il cartello come mai il cartello non c'è è nascosta dietro i cespugli guardate bene dallo specchietto se lo vedete quella macchina lassù bianca che vedete nascosta è una macchina della polizia locale che sta facendo l'autovelox su questa strada io sono andato fino in cima e ho rigirato e non hanno messo fuori il cartello cioè vicino alla macchina chi ne sa chi ne sa di più nei commenti mi può dire qualcosa un saluto a tutti qui è un saluto a tutti Grazie.